Ciao a tutti ragazzi qui è Dext e oggi sono qui con questo nuovo video E oggi ragazzi ci troviamo su Absolute Drift Questo praticamente è un gioco ragazzi di drift Sicuramente gli amanti del drift lo apprezzeranno molto Qui intanto c'è un dialogo, vabbè lo saltiamo, non ci interessa molto E praticamente questo ragazzi è un gioco appunto dove dovremmo driftare con la nostra auto Ok partiamo subito e vediamo un po' ragazzi cosa abbiamo Allora è un gioco ovviamente, oh merda abbiamo già sbattuto L'auto è un po' difficile da controllare E' un gioco ragazzi ovviamente molto come dire semplice, tranquillo Allora vediamo un po', qui dobbiamo colpire i blocchi Vai vai andiamo andiamo Ok abbiamo anche forse una specie di punteggio, non lo so comunque vai Colpiamo i blocchi, colpiamo tutti i blocchi Qui ci sono proprio pezzi che volano Allora prendiamo questi vai, ok Abbiamo sbloccato la porta, entriamo, vediamo un po' cosa ci aspetta Comunque probabilmente alla fine di tutte queste missioni Perché si sono delle missioni Sicuramente sapremo ragazzi di driftare Allora qui dobbiamo driftare nei pali Va bene, andiamo ragazzi Allora vediamo un po' se ci riusciamo Vediamo un po', vai 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 così vai così super drift No merda quello non è andato Non è andato, allora riproviamoci Riproviamoci, merda Ok, oh quello me l'ha contato, perfetto Dobbiamo farne altri 4 Altri 4 vai Quello me l'ha contato ragazzi Adesso soltanto 3 Vediamo un po', allora adesso 2 Questo me lo conta? No non me l'ha contato Allora andiamo dall'altra parte Andiamo qui ragazzi vai drift qui Drift qui Vediamo un po' Eh forse dobbiamo driftare un po', un po' vicini Merda non me l'ha contato Ovviamente l'ho colpito in pieno Quindi non poteva contarmelo Vai, niente da fare Vediamo un po' qui Ok quello me l'ha contato Vediamo qui ragazzi Gira adesso, perfetto Abbiamo sbloccato tutto, ok Allora qui adesso cosa dobbiamo fare? Abbiamo vari punti da prendere Non lo so Drift track Game mod 3 giri Va bene Allora dobbiamo entrare probabilmente qui Per fare ragazzi altri punti Non so giri su un tracciato Andiamo non c'è problema Play 3 2 1 E si parte Vai, vai, vai Ok ragazzi E niente dobbiamo driftare Spero non tanto vicino i pali Ok abbiamo preso dei punti No, non abbiamo preso nulla per il momento Vediamo un po' Vai, 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 vai Superdrift Mi ha dato qualcosa Sì 1600 punti ragazzi Ok Siamo al secondo giro Siamo al secondo giro Vai, vai Drift senza sbattere Mamma mia È un po' difficile comunque Veramente L'auto Ragazzi è difficile Da controllare Qui abbiamo preso punti Non lo so Sì 127.000 Ok C'era il moltiplicatore Per questo non Non mi dava inizialmente nulla Allora andiamo Da questa parte Oh merda Niente Siamo all'ultimo giro Però Vai, 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 vai Vai qui Vai qui Ultima parte Senza sbattere Ok ce l'abbiamo fatta Andiamo ragazzi a concludere Ok 148.000 Non so che punteggio sia Sinceramente Non so se sia buono Oppure no No niente Il 45% Più o meno Cioè penso che sia questo Non lo so Comunque Andiamo Usciamo Vediamo se abbiamo qualcos'altro Tanto questo l'abbiamo fatto Ok Mondo 1 Zero missioni su 6 Completate Ok ragazzi Qui abbiamo svariate cose Molto diverso rispetto prima Allora abbiamo il tutorial Ma non mi interessa Qui cosa abbiamo Drift between bot containers Dobbiamo forse driftare attorno ai container Una cosa molto probabile Vediamo un po' Proviamoci Proviamoci Vai, vai, vai Ok ce l'abbiamo No non me l'ha contato Allora forse Devo andare meglio Può essere Vai Andiamo Super drift Super drift Ok ragazzi Ce l'abbiamo La prima è andata La prima missione È stata completata Poi qui cosa abbiamo Abbiamo dei cubi Distruggiamo Qualsiasi cosa Questo cos'è Uno su cinque Forse un'altra cosa Non lo so Comunque a me interessa Principalmente quello Allora Anche qui Dobbiamo driftare attorno Sicuramente Uh Di già Di già l'abbiamo completato Ma stranissimo Allora Qui abbiamo altre cose Abbiamo Abbiamo Un altro drift Track Ma non mi interessa Qui dobbiamo driftare Di nuovo in mezzo Forse Andiamoci Sono tutti simili Alla fine Vai, vai Ok Non me l'ha contato Forse devo fare il giro Completo questa volta Che è anche giusto Che sia così Vai, vai, vai Drift, drift Oh merda Qui non ce l'abbiamo Completo Oh Me l'ha dato lo stesso Perfetto ragazzi Me l'ha dato lo stesso E due su cinque Di queste cose Allora queste cose Devo colpirle Devo colpire forse Tutte quelle che trovo Vediamo Qui ne abbiamo un'altra Andiamo con calma Colpiamola così Ok 3 su 5 Qui cosa abbiamo Paint Vediamo un po' ragazzi Entriamo su Paint Vai Forse un'altra missione Non lo so Uh Ha cambiato colore all'auto Ha cambiato ragazzi Colore all'auto Bellissimo Se ci passo di nuovo Lo cambia di nuovo Vediamo un po' Vai Ok Niente Siamo ritornati Con lo stesso colore di prima Quindi se passo Adesso cosa succede Un altro colore ancora Bellissimo Comunque ragazzi Questo non dà punti Paint Ci cambia soltanto Il colore Intanto guardate un po' Qui il fumo che si crea Comunque un gioco Veramente molto ragazzi Carino devo dire Allora 4 su 5 Di quelle cose lì Poi Qui non abbiamo Nient'altro Vediamo un po' Vai Vai Super drift Non so Dobbiamo andare in giro A trovare forse Qualcosa Qui cosa c'è Una grandissima Un muro Vediamo un po' Jump Over the plane Ok dobbiamo saltare Superando l'aereo Qui però abbiamo un'altra cosa Ragazzi Voglio fare questo Che siamo qui Facciamola Che siamo qui Vediamo un po' Di fare questo Vai 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 super drift Super drift Ragazzi Questo è eccezionale Ok mamma mia Questo l'abbiamo fatto Veramente alla perfezione Andiamo tutto driftando 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 Perché noi siamo Dei drift king Forse un giorno Non lo so Saltiamo Proviamolo Ok ragazzi Super salto Incredibile Mamma mia L'auto è tutta capovolta Praticamente Niente siamo atterrati Malissimo Comunque 5 missioni Su 6 E manca l'ultima Manca l'ultima Che però Non trovo Cioè almeno finora Non ho visto Ripassiamo dentro paint Vediamo che colore Mi dà adesso Vediamo ragazzi Tensione Super drift Qui dentro In retromarcia Ok Ha cambiato mille colori Prima era verde Adesso rosa Vediamo un po' Rientriamo Adesso grigio scuro Va bene Allora Niente Non so sinceramente Adesso cosa fare Ragazzi Io dovevo prendere Quelle cose lì Però non ne vedo altre Ok Qui ne abbiamo un'altra Però allora Vediamo un po' Di colpirla Vieni qui Rotellina Che poi non so A cosa serve Sinceramente Ah ok Ok Questa era l'ultima Allora Era la sesta missione Va bene Abbiamo sbloccato Un'altra parte Ragazzi Un altro mondo Andiamo Andiamo subito Non c'è problema Qui intanto colpiamo Cubetti che volano Così Entriamo Mamma mia Un po' male Allora Da questa parte C'è un ponte Possiamo andare Nel secondo mondo Vediamo un po' No niente ragazzi È chiuso E devo entrare Forse nel tutorial Niente Il secondo mondo Ancora non l'abbiamo Effettivamente sbloccato Entra qui dentro Ok Ce l'abbiamo Ragazzi Un altro tracciato No Non è un tracciato Ok Qui è un'altra specie Di tutorial Sembra similissimo Alla prima parte Che abbiamo giocato Allora Qui cosa abbiamo Spin Inside The box Va bene Per tre volte Eh cosa devo Ah devo Devo driftare qui Vediamo Vai 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 Sì ragazzi Devo driftare qui dentro Così si riempie Tutto il quadrato Vediamo un po' Ok Altre due volte Andiamo in questo Allora Andiamo in questo Ok ci siamo Vai 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 drifta Sbanda continuamente No Rientriamo dentro Però intanto si crea Il fumo incredibile Proprio Non si vede più nulla Ok ragazzi Manca l'ultimo E dopodichè Anche questa parte Sarà stata completata No comunque Il gioco è veramente Interessante ragazzi Chi ama il drift Sicuramente saprà Apprezzarlo Allora Vediamo un po' Vai qui dentro Dai Entra 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 cazzo Vai Che ci siamo Vediamo un po' Ragazzi Vai vai Completa tutto Ok ce l'abbiamo fatto Abbiamo sbloccato Un'altra parte Allora Drifta Attorno I cerchi Va bene Per tre volte Sempre Vai drift Anche largo Non ha importanza L'importante è che non lo tocco L'importante è che non lo tocco Perché altrimenti ritorna Come prima Ok ce l'abbiamo fatta ragazzi Mamma mia Stavo quasi per toccarlo Allora si è sbloccata Quest'altra parte Adesso cosa avremo Mi ha sbloccato Il mondo 2 Ok Ok ha sbloccato ragazzi Il mondo 2 Vediamo un po' Qui dentro Cosa c'è Allora qui Dobbiamo girare Attorno al pilastro Ok vai 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 alla perfezione Alla perfezione Alla perfezione È andato ragazzi Una missione su 18 Mamma mia Mamma mia 18 18 cose Qui abbiamo da fare Allora questo lo colpiamo Sempre 1 su 5 Ok dobbiamo driftare Adesso sotto questo Cosa qui Comunque il gioco È veramente bellissimo 2 su 18 Adesso dobbiamo Driftare ragazzi Sotto Quel cosa No attorno Attorno Vai 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 mamma mia Mamma mia ragazzi 54% Andiamo ancora Andiamo ancora Andiamo ancora È completato Comunque stiamo migliorando Stiamo effettivamente migliorando Rispetto prima Devo dire Allora qui dobbiamo Driftare Oh merda Ho sbagliato completamente Qui dobbiamo driftare sotto Sì sotto questa cosa Vediamo Spero di farcela Vai vai Andiamo Ce l'ho fatta No non l'ha contato Ovviamente non stavo Non stavo proprio driftando Ragazzi Allora vai Riproviamoci Vai 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 Ok è andato È andato Allora adesso abbiamo Qualcos'altro Vediamo Dobbiamo driftare sicuramente Qui sotto Ok Ok me l'ha contato Me l'ha contato È attorno Quel coso Va bene Attorno a questa Specie di cisterna Andiamo 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 Vai 80% 80% 95 In retromarcia Lo conta No niente ragazzi In retromarcia Non lo conta Però L'abbiamo fatto lo stesso E niente Comunque questo gioco È veramente molto bello Ragazzi Mi sta prendendo Un po' Devo dire È carino Veramente carino Allora qui colpiamo Questo coso Ne abbiamo presi 2 su 5 E poi Dobbiamo trovare Altre missioni Allora qui Dobbiamo girare Attorno Qui sotto Dobbiamo girare Vai 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 che ce l'abbiamo Vai che ce l'abbiamo Ok Altra missione ragazzi Completata L'auto Non si vede più Praticamente Allora Cosa avrei da fare Cosa avrei adesso da fare Non lo so ragazzi Allora qui abbiamo un altro Di quelle rotelline Un'altra di quelle rotelline Ne abbiamo 4 su 5 Che cazzo devo fare ragazzi Non lo so Non ho idea Ok Qui dobbiamo Abbiamo un'altra cosa Passiamo sotto Vai super drift È andato 9 su 18 ragazzi La metà le abbiamo completate Allora Qui cosa abbiamo Uh Altre cose ancora Va bene Va bene Va bene Oh merda Questo è andato un po' male Sinceramente Vediamo un po' Vai 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 Andiamo drifta Drifta Ok Andiamo 10 su 18 10 missioni ragazzi Su 18 Qui c'è un'altra cosa Dobbiamo girare attorno Comunque è sempre praticamente Lo stesso Cioè Dobbiamo fare sempre le stesse cose Però secondo me Arriverà a qualche parte Più interessante Di queste cose qui Diciamo che ci stanno Un po' insegnando Ragazzi A driftare Ok Questo è andato Allora Qui Dobbiamo driftare Attorno ai container Più o meno Vai che forse ci siamo Vai che forse ragazzi L'abbiamo presa bene Oh merda Gira 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 Ok Ce l'abbiamo Anche questo è stato completato Vai che devo farcela E forse devo girare Nel senso in cui dice In cui dicono le frecce Ragazzi Può essere No No Completato lo stesso Allora colpiamo Questo coso qui Che adesso dovrebbe Sbloccarmi Infatti un'altra missione Ragazzi Manca l'ultima Manca L'ultima cosa da fare Che non so quale sia The original No non credo che si debba fare Un tracciato O cosa del genere Quindi Adesso vedremo un po' Eh Cosa potrei fare adesso Cosa ragazzi Potrei fare Non ho idea Ma stavo quasi Per finire a mare Ma non credo che realmente Si possa Ragazzi Sono vari minuti che giro Ma sinceramente Non riesco proprio a trovare A trovare nulla Quindi Magari lo scopriremo In un prossimo episodio Fatemi sapere voi Con un commento E con un mi piace Se appunto Dovessero interessarvi Altri episodi È un gioco Veramente interessante Ragazzi Bello Devo dire Molto Molto semplice Però Non so Mi piace molto Chi ama il drift Sicuramente Appunto Come ho già detto prima Saprà apprezzarlo Detto questo Nullo Spero che il video vi sia piaciuto Qui da X Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo Video Tr dz 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 dz